Sento che hai iniziato le scuole, Ivana. Buttatici dentro con tutta la tua volontà. Fa come facciamo noi autisti qui in Russia. O la va o la spacca. Noi non badiamo a spreco di energie. Si rischia tutto purché arrivi presto il giorno della vittoria e torneremo alle nostre famiglie. È solo un passaggio della lettera che il soldato Renato Santi ha scritto alla nipote Ivana dal fronte russo. È datata 1 dicembre 1942 e domani, grazie alla curiosità e alla passione per la storia di Edoardo Mazzonito, sarà finalmente consegnata a Padova nelle mani dei parenti di uno dei tanti italiani dispersi nell'inferno di Stalingrado. Questa lettera è frutto di uno scambio con un collezionista veneziano ma era nascosta in centinaia di altri documenti e analizzandoli però ho scoperto che questa lettera conteneva qualcosa di speciale. Un testo particolare, pieno di emozioni, pieno di significato. Il testo è trasparente sulle atrocità della guerra e sulla presenza tedesca. Quindi era abbastanza censurabile ma così non è stato per fortuna ed è giunta a noi intera. Una testimonianza cruda della guerra che ha colpito profondamente questo 22enne di Candelù di Maserada che ha iniziato la ricerca della destinataria purtroppo scomparsa da qualche anno. L'imperativo era riconsegnare questo foglio alla famiglia perché nelle ricerche è emerso che questa lettera è l'ultima testimonianza in vita del soldato Santi. Esatto, lui scompare solamente dopo dieci giorni dall'invio di questa lettera quindi probabilmente questa è proprio l'ultima spedita da lui e probabilmente la famiglia non l'ha mai ricevuta. E quindi adesso tu gli riporterai un pezzo del loro familiare. Esatto, cosa veramente molto molto difficile dalla Russia e quindi sarà un momento veramente molto molto bello. Pur essendo un 22enne ha le idee ben chiare sulle guerre. La storia ci ha insegnato che nella guerra non ci sono né vincitori né vinti, mai. E proprio per questo alla fine dell'intervista ci vuole far riflettere leggendo un altro brano della lettera dedicata alla piccola Ivana Santi. Tieni presente che qui non sei al cinema, è pura realtà. Non sono i soldatini di piombo che fanno la guerra ma bensì milioni di uomini che con i mezzi più micidiali cercano di vincersi a vicenda.